Il salvagente si trova nella tasca, sotto la vostra poltrona, dopo aver aperto il contenitore, indossatelo, come stanno mostrando gli assistenti di volo. Agganciate la cinghia sul davanti e tirate l'estremità in modo che aderisca bene. Confiate salvagente, solo immediatamente prima di abbandonare l'aereo, tirando le maniglie rosse. Se fosse necessario, soffiate i tubi di gomma. Se utilizzate un finestino di emergenza, confiate salvagente, solo all'esterno della camina. Nella giacca è in le poche termine, un sito per ne contenere tutte giacche e non esce per l'attenzione now, demonstrating. Basta di clip in fronte, pull the strap to jump the jacket to your side. Inflate the jacket by pulling the rent hands or just before leaving the aircraft. If necessary to supply, hang the pack by going to the rubber tubes. If you use an emergency wind exit, they'll have jacket should be straight to the national aircraft. For further information, please check the details, the station can in a slip pocket in front of you. Per ulteriori informazioni, vi raccomandiamo di prendere visione delle norme di squiretta riportate sul cartoncino. Forse la maschera poltrona di fronte a voi. Per ulteriori informazioni, vi interesse mannכè di presentare il carica al porto di presentazione eai voglia sullette. Per ulteriori informazioni,安anismo, che systeme con determini o sostituire l'anno Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti.